I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, in collaborazione con i colleghi dello Scico e l'Ausilio dei Comandi Provinciali di Ravenna, Reggio Calabria e di Roma, hanno tratto in arresto tra l'Emilia Romagna, il Lazio e la Calabria tre pregiudicati ritenuti affiliati all'Andrangheta, soggetti responsabili di un episodio di estorsione maturato e consumato in un contesto di malavita organizzata sul territorio emiliano romagnolo. In particolare, gli specialisti del GICO hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Bologna, nei confronti di FB classe 1983 residente a Siderno, CF residente a Siderno e infine LC classe 1967 residente a Massa Lombarda. L'udierna operazione, denominata Scramble, trae origine dalla dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia Nicola Fimia, condannato per associazione mafiosa a seguito della storica sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, che lo ritiene capo e promotore di un'organizzazione di stampo mafioso, il quale aveva riferito di comportamenti delittuosi, in particolare di natura estorsiva, posti in essere da alcuni soggetti di origini calabrese, attivi sul territorio emiliano romagnolo e riconducibili all'Andrina de Bellocco di Rosarno. La vicenda originaria risale al gennaio 2011, quando l'attuale collaboratore di giustizia riceveva le prime richieste estorsive collegate alla gestione di una sala scommessa da lui diretta a Roma. Le successive vicende giudiziarie, che avevano coinvolto in tempi diversi a vario titolo, sia gli estorsioli che l'estorto, avevano fatto registrare delle battute di arresto nelle indebite pretese in denaro. Successivamente, tra la fine del 2015 e l'inizio dell'anno seguente, nonostante il FIMIA fosse ristretto in regime carcerario, anche a seguito del suo arresto intervenuto nell'operazione Black Monkey del GICO di Bologna, le richieste illecite per un ammontare di circa 250 mila euro sono riprese nei confronti dei suoi figli, residenti in provincia di Ravenna, fino ad arrivare al novembre 2016, quando le minacce rivolte nei confronti di Costoro, direttamente presso le loro abitazioni, non li convinsero a pagare in tre soluzioni 50 mila euro. L'attività investigativa, anche di natura tecnica, svolta avvalendosi dei filmati e delle telecamere di sorveglianza installate presso il municipio del comune Ravennate, come scrive il GIP nell'ordinanza, ha permesso di ricostruire e riscontrare analiticamente la vicenda estrusiva che ha visti coinvolti a Conselice, da un lato come parti offese ai figli del noto boss Nicola Femia, e dall'altro, nella veste di autori del delitto estrusivo, gli uderni indagati. Contestualmente all'esecuzione del provvedimento cautelare sono stati eseguiti perquisizioni a Conselice, a Messa Lombarda, in provincia di Ravenna, a Siderno, a Rosarno, a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, e ad Anzio, in provincia di Roma.